Vice sindaco uscente, consigliere comunale uscente, riconfermato al consiglio comunale di Alcamo. Partiamo subito da un dato numerico, forse era impossibile riconfermare il tuo mostruoso dato di 5 anni fa, eri andato a oltre mille preferenze. Io penso che di impossibile nella vita non ci sia niente se non andare contro natura. Abbiamo ottenuto comunque un grandissimo risultato, è stato un lavoro di gruppo, anzi colgo l'occasione per ringraziare tanti amici, parenti, persone che mi hanno conosciuto per lavoro in questi 5 anni di amministrazione per ringraziarli di cuore. Non abbiamo vinto ma ci è stata riconosciuta e riassegnata una responsabilità che è quella di rappresentare la città in consiglio comunale. Non abbiamo vinto per gli equilibri che fra le varie coalizioni e quindi perché bisogna anche trovare una maggioranza in consiglio comunale. No, dico non abbiamo vinto perché in politica quando si vince non è che ti assegnano un premio, ti viene data una responsabilità che è quella di rappresentare le persone. Io ci riflettevo proprio stamattina, la vedo più da questo punto di vista, non è certo una competizione sportiva. Certo, poi tutti diciamo abbiamo vinto sicuramente perché proviamo soddisfazione a essere scelti e si dice così, però analizzando bene si tratta di una scelta per amministrare e rappresentare la città. Le liste, le tre liste a sostegno dei surdi hanno avuto un ottimo risultato numerico, tu sei stato il più votato quindi sembra automatico dire che ritornerai a mettere la tua esperienza a servizio di un assessorato. Allora il risultato delle liste è stato un ottimo risultato, penso sia una vittoria in primo luogo del sindaco, del progetto che ha saputo creare e che si è creato attorno a sé, dell'aggiunta che ha avuto in questi anni e dei risultati che sono stati ottenuti. Come ho già detto in altre circostanze il nostro è un grande progetto che guarda al territorio, il sindaco è una persona di cui ho grande stiva, è una scelta che spetta e è sempre spettata a lui, ne parleremo sicuramente, io sono sempre a disposizione come lo sono sempre stato, però a prescindere da questo penso che c'è molto lavoro da fare per il territorio e quindi avremo modo di parlarne e capire quale può essere il mio ruolo, non ho nessuna pretesa al riguardo, l'ho sempre detto, l'importante è trovare le persone migliori tra quelle disponibili che possono amministrare. Questo voto di giunto che è nelle libertà dell'elettore, che è stato comunque particolarmente massiccio per un paio di liste, pensi che possa provocare quello che qualcuno dice che l'amministrazione possa essere ostaggio del Consiglio Comunale? No, io non penso, io devo dire la verità, in questi anni ho avuto modo di apprezzare tanti consiglieri anche della minoranza o dell'opposizione come la vogliamo definire perché poi penso che tutti noi nel cuore abbiamo la nostra città, quindi poi si cerca di lavorare, io penso che sulle buone proposte, tranne particolari casi, dubito che ci possa essere, come dire, muro contro muro, che possano essere strumentalizzate, non penso, penso che gli equilibri si possono assolutamente trovare. Grazie a tutti!